Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 Luglio 87. Nell'ultimo campionato di Serie D la Cavese ha messo in mostra una difesa efficace, molto valida soprattutto per quanto riguarda i centrali. Ha concesso 21 reti in campionato, migliore retrovia del girone I. Doveva cominciare con Altobello e Viscomi titolari fissi, ma poi gli allenatori si sono trovati a dover alternare gli interpreti, a seconda dell'impostazione tattica della gara, delle caratteristiche dei giocatori e delle assenze. Il primo gol ufficiale la squadra metelliana lo ha subito su calcio di rigore alla settima gara, quella con il giarre. Poi qualche disattenzione negli episodi, ma nell'ultimo periodo una ritrovata quadratura. Con il cambio del tecnico da Ferazzoli a Troise è cambiato anche il modo di costruire gioco da parte della squadra. Inizialmente si affidava ai lanci di Viscomi per tentare di servire le punte più in fretta possibile, ma non sempre questa strategia ha funzionato. Quindi, da dicembre a questa parte, la Cavese ha ricercato più passaggi rasoterra per non perdere il controllo della sfera e per impedire che gli altri potessero essere pericolosi. Quando c'è stato bisogno di sostituire Altobello, squalificato, è stato chiamato in causa De Caro, il quale, tra parentesi, è un under, e questo ha permesso al tecnico di schierare cinque giovani oppure un over in più in linea mediana. Quando è stato disponibile, Fissore ha giocato come difensore di fascia, oppure come terzo di difesa, dando sostanza sulla corsia sinistra. Poi, dopo l'infortunio in cui è incappato proprio Altobello, è arrivato anche Paolo Lomasto, giocatore carismatico, che ha tentato spesso anche di caricarsi la squadra sulle spalle, lanciandosi all'attacco. Da Enrico Altobello, eletto capitano, era lecito aspettarsi sicuramente continuità, ma qualche provvedimento disciplinare di troppo, e l'infortunio al ginocchio, lo hanno condizionato. Comunque, con tutto ciò, la Cavese ha un record, perché nelle 18 partite con Altobello in campo non ha mai perso. Una volta in una partita di Coppa il giocatore è entrato, ma la squadra era già sotto di tre gol. Il capitano ha un ulteriore anno di contratto, così come Lomasto. Ceduto 40 al Fasano, era ormai chiuso. Qualche difficoltà i metelliani l'hanno denotata comunque sugli esterni, dove i terzini sono stati alternati molto spesso. A sinistra, Caserta, preso in sostituzione di Palladino e Maffei. A destra, Potenza e Gabrieli. Si sono dimostrati più abili ad attaccare che a difendere. Ed è spiegabile anche per questo il radicale cambio di mentalità, che ha portato la Cavese a vincere ben 42 punti nel girone di ritorno, più di quelli conquistati in quel periodo dalla capolista Gelbison. Intanto è andato a Dario Anatrella, il premio D-Club 2022, come miglior portiere del campionato interregionale 2021-2022. Più volte decisivo, soprattutto quando la sua difesa commetteva qualche sbavatura, l'estremo difensore della Cavese ha incassato 18 gol in 33 partite disputate. In occasione della premiazione, trasmessa in diretta a TV, Anatrella ha confermato di avere l'accordo con il Piacenza, società di Serie C, per la prossima stagione. E ha affermato che l'attaccante che più lo ha messo in difficoltà durante il campionato è stato domenico maggio della Santa Maria. Guarda il caso, anche lo stesso maggio ha ricevuto un premio proprio ieri. E anche sulle conclusioni di Lodi della Cireale, il portiere metelliano ha ammesso di aver dovuto alzare il livello di guardia. Anatrella ha dedicato questo premio soprattutto alla piazza di Cava dei Tirreni.